Per la Grissi, Bonner, Reggio Emilia, con il numero 5, D'Alec, con il numero 6, Achille, con il numero 8, Avedeo, con il numero 9, Andrea, con il numero 10, Federico, con il numero 12, con il numero 11, Artur, con il numero 13, Rivalda, con il numero 14, Ricchello, con il numero 15, Sava, con il numero 17, Alessandro Lever, allenatore Maxxer.